Il rapporto Sprar segnala un meccanismo in crescita, finalmente penso che i comuni abbiano capito che forse gestire un fenomeno difficile, complesso, poco popolare, sicuramente che crea tensioni sui territori piuttosto di lasciarla andare e affidarla a spontanismo funziona meglio. Certo è che il patto del governo deve funzionare, per ora i risultati sono abbastanza buoni, si può ancora migliorare ma sono abbastanza buoni, a fronte di questo i comuni e gli amministratori ancora una volta si prende una responsabilità importante, però se c'è organizzazione è l'unico modo per fronteggiare un fenomeno di cui tutti faremmo a meno in questo momento, perché gli sbarchi sono difficoltosi per chi arriva e anche per i territori che accolgono, però c'è e bisogna necessariamente affrontarlo.